Un test di personalità veloce. Rispondi il più velocemente possibile. 1. Se potessi essere un animale, quale sceglieresti? 2. Il primo animale non esiste, quindi scegli ne un altro. 3. I primi due animali non esistono, scegli ne un altro. Risultati Primo animale. Come vuoi che le persone ti percepiscano? Secondo animale. Come le persone ti percepiscono effettivamente? Terzo animale. Come sei effettivamente? Quali sono i tuoi tre animali?